Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Pokemon E abbiamo cambiato mazzo Perché non ti piaceva più quello di prima E mi ero troppo annoiato Già girava Ma se non pescavi determinate carte Cioè in certi matchup Quindi o contro altri di lui O contro Rasham e Charizard Se dovevi beccare per forza determinate carte Per vincere tipo i potenziatori O tipo gli scambi O comunque le cose per pescare E quindi non riuscivi proprio Cioè facevi fatica proprio fargli danno Abbiamo deciso ovviamente Sempre perché i giraci non ci piacciono E questo è una troppo Mi metterai Volcanion Che con un'energia ti fanno cercare un'energia a fuoco Nel mazzo e assegnare a un Pokemon Se è il primo attacco che fanno Cioè il tuo primo attacco della partita Invece di una te ne fanno prendere 3 Quindi è comodo Cioè l'ideale sarebbe partito con lui Con uno di lui in panchina O con lui in campo E con Kawa in mano Perché Kawa lui fa A segnare 4 energie a fuoco dal mazzo Che sono sufficienti per far attaccare I Charizard e lasciamo con 230 E in più non finisce il turno Però essendo il vostro primo turno Non potete attaccare Così non perdete un turno in pratica E io ripeto questo mazzo più forte Sia perché è più stabile Ha più modo di assegnare energie Ma anche perché è proprio più forte La carta principale Quindi in questo caso lasciamo i Charizard Anche perché fa più danno Perché no Non è che oltre a far più danno Perché Pikachu e Zerkum Si fa 150 Però hai in molti modi Con i potenziatori attici Li fanno arrivare a molto E comunque Pikachu e Zerkum Assegnare 3 energie E retta un Pokémon dal mazzo Lui invece Se usi questo attacco Il turno dopo non puoi giarlo Questo attacco Invece Pikachu e Zerkum Fa solo quello Come attacco a quello e a quello Zerkum Mentre questo ha anche un attacco Con due energie Che si fa solo 30 danni Ma in più fa 10 danni Per ogni segnalino danno Che ha Charizard Quindi conviene Perché se metti in caso Se metti in caso Lui ha 10 segnalini Quindi ha 100 di danno Questo attacco Con due energie Fa 130 E comunque Anche se Nel caso tu non potresti Usare colpo fiammeggiante Penso che un Pokémon Dopo aver subito 230 Anche se ne subisce Altri 30 Penso muoglia Esatto E poi invece L'attacco GX L'attacco GX Ecco È molto simile A quello di Di Pikachu e Zerkum In Fiji 300 In Fiji 300 Non 100 Un po' come in Fiji 300 Non è male E poi abbiamo Vabbè Poi abbiamo Le solite caratterie Che conoscete Per ciclare il mazzo E ciclare il mazzo Togliere stadio Tanto ne giochiamo uno In modo Abbiamo detto solo Per non dare i premi C'è l'avversario Il Pokémon era avversario A poca vita Invece di rischiare Per prendere altri tre premi All'avversario Per shottarci lui Almeno tra l'altro Ne ritorni da uno E comunque Il suo lo fa Perché scaldando tre energie Fa 150 Non è male E poi le energie Dopo le poi Le calte principali Vabbè Borsa Ve lo spiego velocemente Borsa ti servirà Prendere gli calte oggetti Dal mazzo È tipo un Un tabu coco Solo fatto a modo di oggetto Vabbè Scambi Conoscete Bicela cross Guardate I primi due calte Del mazzo Una la scartata Una la pescata Cristallo di fuoco Fa proprio cura Che dicevo Prendete tre energie E dare gli scarti E li prendete in mano Una calta stadio Perché in tutti i mazzi Ormai c'è una calta stadio prisma Ah è troppo forte Questa quella è fortissima Ho letto Quella di Tapu Di Pikachu 3 Come ti faceva attaccare Con un'energie in meno Si era buona Ma questa secondo me È più forte Perché Facci cari Scarti un'energia a fuoco Dalla male E peschi 3 In più Ogni volta che un giocatore Gioco una calta Strumento o aiuto Dalla mano Questo stadio In pratica Può essere distrutto Solo da un altro stadio Ah carino O dall'effetto Di questo mazzo E infatti è per questo Che si gioca In molti mazzi Si gioca In questo mazzo Poi vabbè Bosco e Smeraldo Lo stadio di riserva In pratica Scalta una calta Per cercare un'energia Dal mazzo Salatrice È una calta più forte Di questo mazzo Ed è il motivo Uno dei motivi Per cui questo mazzo È superiore Invece di assegnare Oltre ad assegnare Un'energia Normalmente per turno Salatrice Te ne fa assegnare Due a un pokemon Dalla mano E in più Se lo fai Ti fa pescare Tre calte Cavolo C'è più di Kauwe Kauwe Vabbè Ve l'ho già spiegato Fa prendere Quattro carte Nel genna mazzo Le fa assegnare Un pokemon Il problema È che il tuo turno Finisce Quando usi Problema Problema Skateball Costolo di ritirato O nemmeno Banda scelta Trenta in più E pokemon GX E gli ex Dell'avversario Alla pokemon Mattare il nome Go Un picco di zero Dai vediamo subito Questo computer vuole croce Io te lo dico Poi fai te Vedi? In questo mazzo Si parte per primi A differenza dagli altri Davvero? Si perché si pesca i Kauwe Ah Bravo mazzo Si inizia sempre al top Anche lui però Dai Si effettivamente Quindi Mmm Ci siamo andati vicini Aspetta Donde pescare di primo? Devo pescare Due carte Una perché lui ha fatto La mano Oh rischiamo già di Caricare cosa? Mi stai dicendo già così? Si Mi dici già così Ma comunque Possiamo ciclare il mazzo No scusa Tapuero Possiamo per me No Poi è bello che vai anche incontro Per pescare le carte in meno No Tapuero Prendiamo Kauwe Carichiamo Kauwe E tu non lo finisci Ehm No No perché se usi manshadow Ti finisce Ah capito Ti mischia nel mazzo Purtroppo Usarei prima Mineral Ball Per me Ok Fatto Si potrebbe one shotare Veramente Mi so Ma Perché Perché Che Che Sono fatto un posto Ragazzi Perché Tutte le volte che Proviamo un uomo Mazzo Finisce subito La partita Però Ogni volta Che diventano un mazzo Sarà la seconda volta Il primo forfetta subito Incredibile C'è Una cosa incredibile No Oddio Ah Ehm Cosa è la seconda Oddio Come si chiama Zorowark GX Bellino E' carino E' carino E' carino E' carino E' carino Ho letto Ho visto negli altri Diciamo youtube E' molto lento No non questo No no Si si No Io intendevo gli altri No Il mio era questo Nel senso Se tanto tanto Con bici Da cross Trovo Lo giochi No Si no E' l'altro E' quello dello stadio Ah Scusi C'è cazzo fa Bonf fa le tronlate No bello C'è Bonf Aspetta No è il nostro Bici Fai bici No perché Se hai il secondo turno Bici Prova di partire Anche con questo No Perché qui ti serve Kauwe Perché Kauwe Tu lo usi Finisce il turno Ah Ah però Puoi attivare Puoi attivare quello Semplicemente Posso far così Far così E il mio Pokémon E' già Il mio Pokémon E' già Bai Che pronto Il prossimo turno Non bello A attaccare E poi Bello Che rischiamo Anche di Beccare Rischiamo Lo prendiamo Io giocherei Io prenderei Machado Perché così No no Machado Sì perché Togliamo I caldo In mano a lui Sì così Togliamo a lui E loro Fai conto che Lo giocano molto Machado O l'altro Arbitro Può essere Che si chiama Arbitro Mi peschi 5 Perfetto Io non uso neanche la borsa No non ho usato la borsa No forse dopo Vai Controllo Sì Ah vero Ancora Mi ha segnato l'energia Lo sono abitmato Dopo Se vediamo Ok Aiuto La prende dal cimitero E te la aggiungi in mano O nel mazzo Cosa? Quella Quella La borsa No ti fa prendere due oggetti dal mazzo Due oggetti dal mazzo Due oggetti dal mazzo Ah il malcia notturna Malcia perduta Malcia perduta È simile comunque A me piace un sacco Ecco Grazie Molto gentile C'ha favorito Dandosi un più uno di carte Non ho capito Non ci cambia Non ci cambia molto Bella 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 T'ha fatto pescare bene Eh passo Vamo mettere nella zona pelluta È carino come mazzo Ospita di carica Pesca un po' Sì Ah uè Pesca uno per ogni nostro No ti dico A me piace molto Il mazzo del pokémon Perché alla fine Tu giochi proprio Con il mazzo Emolga Prendi un altro emolga Capito A differenza degli altri giochi A me piace proprio perché Mix il pelluto Mette due carte Nella zona pelluta Absol ed emolga Ok Ti rompe sempre Minol ball scusi Mi dica Mi piace il pokémon Molto Sì però non facci vedere Che stava accaduto Ragazzi abbiamo fatto Dopo il ball tour Dopo il ball tour Che non so cosa siete Se non sapete cos'è Scusate Scusate la dissi Esatto Portami via Cosa faccio Attacco O faccio Minol ball Kawe Minol ball Metto chiles E lasciami in panchina Esatto E Kawe O se non vuoi sprecare Puoi anche fare Di figata Puoi fare Bici 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 Prendi bosco No Ho la fabbrica Prendi bosco Scarti una carta Perché scarto Tappulere Va bene Fai così Mi scusi Il mio tappulere Non lo voglio È un po' qui È un po' brutto Lo giochiamo Sì Però non è Sì Perché tanto ma C'è cosa Io gioco In modo che se lui giocca il suo Io posso togliere Sì Perché se lui giocca il suo È vero È vero È vero Il mio tappulere Bene bene Ma il nostro turno è finito Abbiamo un charge Di solito non erano quell'elettro che si caricavano Quella batteria Vado al piano di sotto Devo andare al piano di sotto No no Sennò perdiamo Mi mancarei che più bravo Come stavo dicendo prima Che mi interrompe Abbiamo fatto il dritto del vulturo Siamo un po' stanchi Pensare Dritto del vulturo Video ieri No l'altro ieri E stiamo cercando di portare anche sto gioco Che c'è troppo appassumato A me Questo è un problema Quello è un problema Che fa tanto tanto danno Immagino Fa 1, 2, 3, 4 Però Non è un problema Tu lo puoi mettere nel davanti Lei prendi Sì ci sono arrivato Tranquillo Non lo so È scarso Gliel'ho montato io il mazzo È scarso lei Ma se tu non vuoi neanche montarlo Alla 1 è del primo attacco No Aspetti Aspetti 30 Ma giù 30 No Rimane 10 di vita E poi la Debo e Sera Tu prego ma no Alla Voila Oh Oh C'è il microfono C'è il microfono Scusa 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 Quella centrale A destra Qui sta Centrale a destra Dai e maga Sì tutti noi Loro non fanno danno Fa solo danno quel cospo Mi sai che si fa la terza Awe Yeeey Ma se ti parte la come è finita Cioè Ho messo coach Un po' che Il computer vuoi coach Vero Sì Mi vedi Il mio computer vuole sempre Cioè non lo so perché Kawe Era ora Finalmente cazzo Soprattutto perché Probabilmente è lo stesso mazzo Dici Sì Però abbiamo due poche Per me Beh abbiamo un modo di prendere i pokemon Può essere anche Giocato Montato in maniera diversa Ovviamente C'è un'altra mazzo Finanza Ah sì Qua è la carta ganatore Eh Cioè Non mi ricordo Scarti due carte C'è due carte ganatore Aiuto Aiuto Non l'avevo vista Adesso è sincero Perché Abbiamo appena Io per l'inzio Aiuto Allenatore Non abbiamo poche Ah Ah no Ah va bene Due Perfetto Non è È bellissimo Ce l'abbiamo Quello noi Sì Ne abbiamo un paio Uno Non un paio Uno Sono sincero Uno Non so Non so Quell'altro onestamente Uno Uno L'ho visto io Aspetta Allora Io una gli assegno Tanto Una sì Tanto Che cazzo mi chiami Quello Scarti due energie Bellissimo Scartare energie A profusione Hai iniziato qui? Sì No ho iniziato No ho iniziato io Si ho iniziato io Sì ho iniziato noi caro Bonfino Io farei The Dende The Dende No io prenderei Cosa Volcanion O Mashado Mashado Esponi chi vuoi prendere Mashado Si con Mashado Ma ti dico Mi piace troppo Partire così E dirgli No tu Con calmino Poi dai la banda Poche gear Si poche gear Io che prendiamo Lui Ne finisci Basta Cazzo di fag O se no Aspetta Ti rima Shadow E lo blocchi O se no Dici Fai Premo turno In teoria Non dovrebbe subito One shotare No Non può Cioè lui fa 50 per ogni Per ogni Energia che hai in mano E poi Devi scartare Deve caricarlo E aggiungerlo in mano No Deve Dagli 3 Energia fuoco Poi In base a quante Carte Energia in mano Si Non so Scarti Ne scarto Un numero Qualsiasi E infigeranno Vabbè Dovrebbe trovare Uno switch Cioè deve trovare Troppa roba Se ce la fa Ben venga Però In teoria Secondo me Non ce dovrebbe fare No Poi ho Al secondo Ah si Forse ce la fa Ad attaccare Cioè Oddio Al massimo Mi ho fatto Mascardo Vabbè Almeno Dai un premio Non è detra Cioè Infatti E' bello Che Non è che Sempre Barella Cosa ha fatto Barella Ha scaltato Barella Ha scaltato Barella Con la bici E non si sa Cosa vuoi Testimone La speranza Ok Cosa fa Già quello Quando va Messo che un po' Mi sembra Passi Che energie C'è Il pokémon Che viene messo Che un po' Mi stai Dicendo Che ti devo Attivare Guzman Mi stai Chiamando Guzman No No Pochi Di No No Rimesco Rimesco Un po' Di Di Gli Sono Ancanto A lui Che si era preso Prima Esatto Bosco Se vuoi Proprio Si Scalto Energia No No Scalto Una salatrice Per Un'energia Abbiamo due Energia Un'energia e ammazzagli saldatrice assente perché saldatrice? ah perché hai solo un'energia ok ma segna uno era giusto per pescare per ciclare secondo me no era anche sì esatto soprattutto per quello Guzman ti butta avanti uno no Guzman l'ha scaltato ah l'ha scaltato col bosco oh io veramente non capisco delle voce poi è stanchetta ragazzi se la trocca ti viene qui di fianco lui è stato intelligente non attaccare però è stato altrettanto stupido mi dà fastidio saldatrice non ti parte no non è che non mi parte saldatrice è che non se io gli ammazzassi questo si si attiva testimone della speranza si testimone della speranza da 3 energia all'altro e quindi è pronto però io in questo caso sai questa è usare attacco GX se hai almeno se hai almeno se hai almeno 4 energia in gioco non lo so di voi in gioco si in gioco in gioco in gioco puoi sostituirlo si io dai skateboard ah no ha già una buona scelta niente GX e cosa fa ah lo so anche prima anche con l'attacco normale no non posso usarlo perchè ho usato il turno prima ah è vero è per loro che sono stato costretto usare l'attacco GX ah ho capito perchè lui non mi ha attaccato quindi non potevo usare l'altra oltraggio scambio bella ci serviva ma al che vada gli ho sciolto con Volcano comunque avevo capito su di lui in centenze in gioco cazzo forte si no 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 in gioco ah ecco lo riprendi in mano lo rigioca gli da testimone della speranza curativo immagino spero cioè se ce l'ha recupero di energia noi potevamo ancora pescare non ci abbiamo pensato di usare il bosco porca di sera no l'ho usato per prendere energia no l'avevo pescata no in questo turno no vabbè percevi bosco scartavi una delle una tipo skateboard che non ci serviva no ha scartato l'energia per prendere un'energia adesso si recupera l'energia che ha scartato vedai potremmo fare cerca la creatura ok cerca una una ultra creatura o dell'energia o l'equipaggio sull'ultra creatura mi fa un po' dovrebbe fare almeno 200 e scartava tutte lui è senza mano adesso si ma comunque ha mondo di pescato ah niente puoi fare lui 50 più 60 no rimane con il civito ah quello puoi usare l'ottraggio si perché o se no puoi fare ancora più carina puoi usare questa scartare questa è la scusate saldatrice scalto esatto questo esatto con un'energia esatto ok scalto ultrabook scarti una saldatrice una saldatrice e un'energia no uno scambio perché scambio no come lui ti rui ah va bene un'energia intanto riprendiamo l'energia con lui o un'alto no lui 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 gli assegno energia e te hai sbagliato perché così non peschi fanculo vabbè vabbè facciamo così aspetta no perché devo riscaldi e non poter attaccare no no così era energia sì però ti sei scazzato perché potevi no pensavo che il suo effetto secondario devi promettere due dice no uno 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 assegna fino andato se trovo una jacks se trovo una prisma o una jacks ne ho un'altra va bene ci sto va no allora se trovo una jacks una se trovo una full alto due se trovo un'hyper 3 ok ci sto e una forisega 3 va bene niente bravo bravo gioco la rinanziamo comunque metteremo il link del mazzo in descrizione lo faremo sto giro come sempre no l'altra volta non l'ho fatta ci sono dimenticati come sempre tutte le volte che ci ricordiamo ovviamente esatto speriamo che il video vi sia piaciuto iniziamo mazzo vi sia piaciuto questo cambiamento non mettetelo perché sennò il meta va quindi non fatevi sto mazzo però è in maniera sempre budget perché noi siamo poveri senza giraci non lo abbiamo sì perché no il giraci a me non piace non ti piace è il mio pokémon più vito ma a me non mi piace in questa situazione no il mio pokémon leggendario preferito è il giraci già so che nel leggendario è il mio tu purtroppo sono vecchio stile te sei vecchio era prima di nessuno esatto era meglio era meglio ciao a tutti ragazzi grazie a tutti